Agenti della squadra mobile di Foggia, sezione criminalità organizzata con la collaborazione dei reparti prevenzione crimine, hanno arrestato il 41enne Guido Campanile, il 39enne Michele Villani e il 32enne Davide Garofalo, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, stupefacenti e contro la persona, ritenuti responsabili di una serie di furti di auto, ricettazione ed estorsioni ai danni di cittadini foggiani. Michele vedi sta punto? Questa moto la spacco e tu la spingi con questa macchina, hai capito? Dove dobbiamo andare? Sempre là, la mettiamo, nel capannone. Questo è il contenuto di una delle intercettazioni telefoniche che hanno permesso di fare piena luce sul fenomeno noto come cavallo di ritorno, ovvero la richiesta di denaro per la restituzione delle auto rubate. Agli arrestati sono stati attribuiti più di 10 furti e tentati furti di autovetture tra gennaio e marzo del 2017. Il modus operandi era sempre lo stesso, prima il furto delle vetture che venivano nascoste in alcuni capannoni e successivamente la richiesta di denaro ai proprietari per la restituzione. In un caso, una delle vittime per ottenere la restituzione della propria Fiat Panda è stato costretto a pagare la somma di 300 euro.